Nel Golfo di Napoli, così come i meteorologi avevano ampiamente previsto per oggi lunedì 8 novembre 2010, c'è stato un improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine. Agli scafi e traghetti per e dalle isole sono fermi da ore. A Forio, uno dei sei comuni dell'isola d'Ischia, con le telecamere di PCML e TV abbiamo ripreso ai momenti salienti di una mareggiata impressionante, con onde alte svariati metri. Tutta la costa è flagellata dal forte vento e dal mare in tempesta. Stupendo il colpo d'occhio della bea di San Francesco, con le onde che in lontananza quasi si confondono con la storica e caratteristica chiesa del soccorso. Su via Giovanni Mazzella, lungo la costa che porta dritto dritto la baia di Citara, le onde si infrangono con inaudita violenza sui tanti scogli naturali che caratterizzano una delle passeggiate più belle dell'isola verde. Impressionanti anche le onde che sbattono sul molo del Porto Forianne, che danno vita a uno spettacolo senza pari. Intanto per le prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteomarine in tutta la campania.